È arrivato il momento di commentare i migliori e i peggiori outfit della notte degli Oscar 2024. Iniziamo dall'uomo del momento, splendido, spettacolare, Cillian Murphy in abito Versace. Favoloso Bradley Cooper in Louis Vuitton. Vi avevo anticipato la tendenza dei pantaloni, soprattutto i fondi che si allargavano in questo stile anni 70 e lui ne è un perfetto esempio. Fascino assoluto. Ryan Gosling questa volta non mi è piaciuto. Il calzino che si intravede rosa è un eccesso che avrei evitato. Mi sembra un po' troppo eccentrico nelle ultime apparizioni. Andy Oscar goes al magico Robert Downey Jr. Anche lui in un abito spettacolare, che gli sta benissimo, questo stile ecco che richiama sempre gli anni 70. È un abito di Saint Laurent. L'unico difetto probabilmente la spalla un po' troppo quadrata. The Rock che ha esagerato. Non è la prima volta che Dolce & Gabbana da queste spinte così in alto. Terribile anche questa scarpa marrone. E questo è il peggiore della serata a mio avviso. Che delusione, Matthew McConaughey. Sbagliato nelle forme, nelle tonalità e soprattutto le scarpe marrone. Una cozzaglia. E chiudiamo con il mitico orgoglio italiano. Cabilame è ormai un abitue. Fatemi sapere nei commenti il vostro preferito. Fatemi sapere nei commenti il vostro preferito.